oh finalmente è tornata stiamo parlando proprio di mini cooper qui vige la legge del total black cerchi lega total black e anche il tetto total black filosi anche i fari halogeni non abbiamo uno schermo touch poco importa perché comunque c'è tutto radio media per collegare il proprio dispositivo tramite usb o tramite il cavo aux c'è bluetooth per gestire le chiamate qui il clima regolabile tramite le ghiere start and stop spegniamo la vettura questa è mini cooper 1.2 di cilindrata 82 cavalli tra le nostre vetture usate aziendali arrivata da ald ha avuto un singolo utilizzatore ha passato i 100 punti di controllo da parte dei nostri automotive expert a solo 14.000 chilometri davvero un ottimo usato scoprite l'offerta andando su ratti auto.com il link lo trovate in descrizione noi ci vediamo con un prossimo video a presto ciao ciao